di governo all'interno dei consigli di amministrazione. Sì, proprio ieri in vigilanza abbiamo sentito il professor Kelly che ci ha parlato di questi profili di incostituzionalità e in effetti è così, perché noi oggi in Italia potremmo avere una legge dove il blocco maggioranza-governo ha la maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione della RAI. È un tipo di legge, un tipo di normativa che ci porta indietro veramente a situazioni quasi autoritarie, infatti in Europa gli unici due paesi che hanno questo tipo di normativa sono la Moldavia e l'Ungheria, hanno già avuto dei richiami dalla Corte dei diritti dell'uomo e spero che noi ci dobbiamo evolvere invece che involvere.